Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. La nuova è classifica in area montana e parzialmente montana. Sull'area montana non si ha più nessuna contena privata, anche sul cittadino si imposta la bassa. Mentre sull'area nazionale montana si ha più nessuna contena privata, anche sul cittadino. Sull'area nazionale montana si attacca sia il cittadino che gli imprenditori agricoli. Come potete notare, il nostro carattolo non tiene conto della biologia delle zone in cui vi siedono le aziende agricole. E quindi cosa succede? Succede che un territorio convertivo da solo, potrebbe essere, viene l'autorità di un particolare, però per quello che gli imprenditori vicini al nostro territorio hanno il terreno classificato in non montana. E' per questo che noi chiediamo a tutto il Consiglio di prendere posizione su questa normativa e di votare. Grazie. Non l'ha accettato a te, con la bassa non si accettano a te, però l'ha accettato, per dire va bene, dobbiamo aiutare, aiutiamo, dobbiamo parlare, paghiamo, dobbiamo risolvere i problemi, risolviamo. Ma questo del terreno, dell'Imo agricola veramente non è stato accettato. Io ho l'esperienza, ogni persona che è venuta, c'è una maledicina, qualcuno ha pure strappata davanti a me, ha detto vado, vado, vado. Un pezzettino di terreno, lo fa dare, 30 euro, cioè io non ci faccio niente con quel pezzettino di terreno. E' odioso, veramente. Poi, si racconta, l'anno scorso eravamo contani, quest'anno qualcuno si è seduto a Roma, ha deciso che siamo parzialmente contani. Io l'avamo dato qualche mese. Cioè, non ci siamo accorti. Si prende il centro ciclatino e poi si prende la vattata e allora cominciamo a scendere. Scendiamo i saracini, siamo a 500 metri, scendiamo ancora, dove arriviamo, da questa parte all'altra parte, scendiamo sotto. C'è un po' fantasiose. C'è tecniche di punta, penso, perché che cosa ha fatto quel po' di velocità? Ha messo la tassa in particola e ha tagliato da subito il primo. Ha fatto due calcoli, due colpi, palazzola tre. Ha 10 centri di terreno, deve prendere 50.000 euro e non ha subito i 50.000 euro a palazzola tre. E siamo diventati parzialmente amontani. Guarda un tasso, io lo so, perché faccio bene a presentarla e io voto favorevolmente all'abolizione di questo. Chiediamo per forza, noi non possiamo né decidere né decidere, però possiamo parlare. Siamo cittadini dell'Italia, siamo cittadini di questo mondo e possiamo almeno parlare e dire come consiglieri, a nome dei nostri concittadini, perché siamo collegati a farlo, dire effettivamente di abolire questa tassa, la tassa ingiusta, colpisce anche le aziende, perché se io ho un sentino di terreno, l'azienda è giustamente per fare l'azienda a più terreno e delle bagaglie tipo agricolo, non solo già che siamo in un stato di crisi, ma dobbiamo aggiungere ancora altra legna a fondo. Io credo che l'Ivo agricola viene da quelle imposte che il governo in questi anni hanno usato per poter dire di avere le lotte altre, perché poi è stato così con l'Ivo, l'Ivo alla Tassi e tutto il resto. Quindi è chiaro che c'è un po' di difficoltà in cui si interneggia, cioè in cui c'è il sistema che io lo stessa, ci sono tanti altri problemi, andare in qualche modo a pesare in gola, andare a prevenire su chi invece dovrebbe farci risolvere, in un certo senso, credo sia una cosa particolarmente internazionale. Quello che volevo solamente sottolineare è il fatto che io apprezzo questa sensibilità, perché è un problema che riguarda tutti i nomi, cioè è stato dire insieme a tutti i nomi su questa difficoltà. Mi dispiace solamente che questa sensibilità non ci sia stata quando si è discusso sulle ricoste della TAI, quando il gruppo di opposizione aveva proposto altre esenzioni, in particolare di attività produttive o particolari attivi da connerci, e mi dispiace che questo segmento all'epoca non ci sia stato racconto. Ora, è chiaro che penso che avrete riscordato che voi le difficoltà non solo nel settore agricolo, ma un po' di settore gruppo del territorio, quindi mi auguro che questo sia l'inizio anche di una concezione diversa anche su questo aspetto, che mi abbia una prosecuzione di un certo divertività con questo stesso tipo di sensibilità. Per quanto riguarda il voto, credo che non ci siano problemi. Sì, Presidente, grazie. Io volevo intervenire, sicuramente sono a favore del gioco, l'ho firmato, l'ho condiviso con il consigliere Vazzo e altri consiglieri che l'hanno voluto firmare. Quindi appunto si è semplicemente rapporto a quello che era Input, che è arrivato al territorio stesso. Il consigliere Vazzo, magari più ad entrato, ha avuto modo di confrontarsi con le aziende del territorio, quindi non appena mi ha invitato a discutere sull'argomento, mi ha trovato favorevole. Al di là di chi firma, ecco, volevo pubblicitare questo passaggio, al di là di chi firma, che è un dato tecnico, il proprio del giorno di non si consolida stasera. Raccolgo già il parere positivo da tutti tutti, quindi dico che questo sarà il periodo del giorno di tutti. Quindi è importante proprio che il consiglio esca forte ad alcuni momenti come questi. Altrimenti che fanno ancora più nel mondo agricolo, nel mondo non solo agricolo, ma anche il solo tecnico, perché approfitto dell'argomento per introdurre un altro aspetto importante, che è quello della BGA. Anche su questo c'è attenzione da parte del Consiglio Comunale. Nei giorni scorsi, mi sembra sempre una corsa, sempre il consigliere Vazzo, insieme ad altri consiglieri, è stato promotore di un incontro col mondo zootecnico. Sicuramente è un problema che proprio negli ultimi 10 giorni sta preoccupando seriamente le aziende zootecniche, soprattutto per i furti che ci sono stati nella nostra zona. Per questo abbiamo avuto opportuno, anche in questo caso, mobilitarci, fare un incontro pubblico, a cui hanno partecipato molti allevatori, ma anche molti rappresentanti delle istituzioni. Tra l'altro c'è stato un invito che è arrivato sempre dal mondo zootecnico, quindi tra loro che sono oggi colpito, l'invito ai sindaci a fare qualcosa. E devo dire, oggi lo dico in fondo a mio consiglio, in qualità di consigliere di assessore dell'archicoltura delle nostre comuni, che i sindaci tutti, attraverso l'unione, aggiungiamo una nota al prefetto di Siracusa per chiedere maggior attenzione per il territorio. Dico che il prefetto si è subito attivato, ha già mandato una nota di riscontro, impegnandosi a ricevere a più prezzi dei sindaci per discutere sulla sicurezza del territorio, che va oltre l'abbigliato, perché tutti siamo in corrente di altri furti che sono in alto nelle zone del nostro territorio, quindi la cosa inizia a preoccupare un po' tutti. C'era un canzone da parte dei sindaci, c'è la disponibilità del prefetto. Io dico e invito già il consiglio da oggi a iniziare a pensare a un nuovo atto, da fare con il consiglio, un'opera d'autore del giorno, che vada sempre in questa direzione, per raccogliere il sentimento comune dell'opinione pubblica, ma anche per dare forza alla azione dei sindaci, perché i sindaci in questo momento hanno bisogno dei consigli comunali che resta sempre la qualità che li sostengono in questa azione che hanno preso. Tra l'altro, sempre attraverso l'unione, attraverso l'intesa dei sindaci, si è inviata anche una nota al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale e al capo dell'Università Operativa di Dipartimento e Prevenzione Materinale per chiedere l'identificazione endoruminale dei movimenti e dei movimenti. Questo continua iniziato ad applicare una legge che già esiste, ma a farla rispettare a tutti affinché ci possa essere un maggiore monitoraggio dei capi residenti nelle nostre zone. Perché vedete, l'ampigliato dalla Marte ci preoccupa e preoccupa gli allevatori perché colpisce le aziende, spesso ricostrinse a una misura, perché in momenti come questi è difficile ricostruire su un'azienda. Ma allo stesso tempo rappresenta un pericolo per la correttità del consumatore, perché giustamente dietro l'ampigliato si nasconde, si va a diventare anche quello che è il mercato nero, in un certo senso delle carri, che poi dicono le nostre tappe, e quindi se non controllate, come siete, non sono accasettate al rischio per la correttità del consumatore. Quindi ci sono queste due azioni in atto. Io vengo un unico, proprio per fare in modo che già stasera, da semplici il fatto che vengono comunicati, diventano di comune conoscenza e quindi un'azione condivisa che presto ci possa vedere impegnati anche su questo fronte. Grazie. Però, se io mi sono risposto sulla domanda che lo ha fatto con i figliari familiari, come giornali sui tasi e tali, ho sentito lì semplicemente... Ma no, io non penso che la domanda si è stata incontra. In un momento, tutti i altri, si esegibiliano a questo, non volevo una cosa. Scusate, penso che schiavo di tutto la documentazione... Secondo me, sempre, quello che a casa ha fatto, significando ci sono come se... No, semplicemente volevo pensare, che a me stavano morire su soltanto a risposta. La base di patana sono due commentazioni serie. Lì non ci sentite, non dovrei lasciare un articolo nel giornale. Lì ci sentite il dovevo trovare del liquido al massimo. Al liquido al massimo non ci hanno fatto trovare. No, no, no. Non ci sentite, non dovete sentire, scusate. Non è al massimo. Non è al massimo. Abbiamo discusso tanto. Ma hai ricordato che il colore con lui è toccato un dialogo corretto? Ecco, a me non volessi sottrarvele. Perché a parte che non penso che la domanda l'abbia rivolta a me, la rivolta a tutto il consenso. E' stato un po' leo evitare di scendere nella polemica. Visto che invece non era una polemica in un momento di crisi come questa, io posso raccogliere l'invito semplicemente per dirla che a parte che non abbiamo, come diceva il consigliere, che sicuramente abbiamo applicato la liquida massima. Lei sa bene che la liquida scaturisce dal ragionamento di pareggio dei conti, quindi è stato fatto l'affronto con i bilanci. Questa è una tassa che rappresenta una vera propria patrimoniale, che va dal governo centrale a tassare, diciamo, chi produce nel territorio con tutte le difficoltà che ci sono. Con tutte le difficoltà che ci sono. L'approccio è sempre lo stesso. Quando si è trattato di applicare i tributi di competenza di questa amministrazione, di questo comune, si è ragionato sempre con lo stesso principio, di non gravare i suoi cittadini. Purtroppo le alibute che abbiamo in diritto vado sono state in base un obbligo da parte nostra per pareggiare i conti. Questo è stato più forte di veduto. Non sono state delle cose applicate al membro massimo, come la dici, eh? E il minimo viene già torto dallo stato. Quale è il massimo? Inmediatamente. Quasi il massimo, fatevi parlare di tutto il mondo, quasi il massimo, e il massimo è la sua disparenza, non capisci che abbiamo spiuto un'acciaio. Non dico gli alibida, io penso che deve risposta. La tecola anche con consiglio è stato di grande, intelligente e sensibilità a dire che non è più forte, non è più forte. Passo. Pasciamo, e non è più difficile. Allora, vorrei parlare di una cosa, quando riguarda il discorso dell'ambiciano, perché aveva il consigliere russo. Alla fine di questo consiglio vi lasceremo il numero di telefono, perché vuole essere invitato al prossimo anno che ci sono questi nomi. Io l'ho saluto, ma l'ho saluto per sbagli, infatti ci siamo visti. E quando siamo invitati, è anche più semplice intervenire, portare uno di due e tutto il resto. da abusivo è un po' più difficile. Non credo che ci siano difficili. No, lo so, anche perché è un tema che penso interessa a tutti, per cui magari è stato un errore, non credo sia stato voluto. Poi è chiaro che io visto che proprio il mondo ha preso una direzione insomma un po' troppo in favore dell'unico deputato presente, io mi auguro che tutto quello che ha detto si realizzi, perché ha promesso, insomma, tanti posti. Spero che tutto questo ci sia preso, anche a me, che probabilmente non vuoi, come finanziamento dei fondi antilagri, come l'organizzazione europea, diciamo che fa parte del gioco, per cui proprio lo accettiamo. e l'unica raccomandazione è questa. La prossima volta, per favore, in interesse della città liberale, cerchiamo un po' di coinvolgerci tutti. Bene, se non ci siamo altri interventi, allora portiamo un momento pronto, a posizione della norma che è scurrogente in materia di esenzione e che introduce tutto sui terreni riguri, che è d'accordo che è sostenuto che non lo esiarsi, approvato tra l'attività. ultimo argomento, inoltre del giorno, a sostegno della città...